Il Miran dopo la sconfitta per 3 a 1 contro il Borussia Dortmund va a vincere 3 a 1 con il Frosinone con il gol di Jovic, Ulisic e Tomori e porta a casa la vittoria che da respiro per il proseguio del campionato ci fa avanzare a 29 punti all'inseguimento di Juve e Inter seconde e prime in campionato e quindi si punterà a vincere prossimamente per avanzare sempre di più per arrivare a provare a vincere lo scudetto.